Eccoci qua, oggi mercoledì 6 novembre 2024, finalmente ci siamo, ci sono state quelle che sono le elezioni in America, abbiamo finalmente il nostro nuovo presidente americano, nostro non tanto, ma alla fine comunque nostro è, e per di più Bitcoin raggiunge i suoi massimi storici, quindi rompe i 75 mila dollari, e questa è una notizia che ci fa parecchio piacere, soprattutto perché insomma ne abbiamo parlato in queste ultime settimane, abbiamo seguito da vicino un po' tutti quanti gli avvicendamenti, sapevamo benissimo insomma che questo sarebbe stato un momento molto importante per il mondo delle criptovalute e soprattutto chi ci si sta approcciando, ecco, in questo momento, ed è una grande opportunità, una grande opportunità soprattutto per chi ha seguito anche le vicende, gli eventi che abbiamo realizzato con Crypto Power Academy, si parlava di novembre dell'anno scorso quando Bitcoin era sui 33 mila dollari, adesso oltre 75 mila, avevamo fatto un evento, la profezia in cui avevamo detto appunto che ci sarebbero stati dei rialzi e da lì ad aprile Bitcoin raggiunge i 66 mila dollari, chiaramente in quel momento tutti dicevano che Bitcoin era morto e che praticamente le criptovalute erano una truffa, ma noi insomma siamo sul mercato da oltre 4 anni con l'Academy e abbiamo oltre 1500 iscritti e studenti che diciamo ci seguono e ci hanno seguito insomma dall'inizio, e chiaramente chi ci ha seguito dall'inizio, oramai 4-5 anni fa, in questo momento se la sta godendo e non poco, ma oltre a tutto questo, in questo video voglio andare un po' a vedere cosa è successo praticamente ieri con le elezioni di Trump e quindi andiamo a vedere un po' quali sono le aspettative del mercato, andiamo a vedere un po' anche per quanto riguarda la parte di fiscalità, insomma un tema piuttosto caldo, parliamo un po' del nuovo record di Bitcoin, impatto delle politiche, ho preso un po' di appunti chiaramente per realizzare questo video, e andiamo a capire un po' anche quello che è successo nel mercato in modo generalizzato, quindi io partirei subito andando a condividere un po' una schermata da qui, praticamente io partirei un attimo da CoinGecko, praticamente una piattaforma in cui insomma possiamo andare a monitorare un po' quello che succede nel mercato, abbiamo un po' di dati insomma interessanti, il primo dato è la market cap, quindi la capitalizzazione di mercato per quanto riguarda Bitcoin, che è arrivata a 2570 miliardi, non di Bitcoin nello specifico, ma delle criptovalute, anche perché diciamo la dominance di Bitcoin è al 56%, ma diciamo la cosa interessante che andiamo a vedere subito diciamo a primo sguardo è il fatto che Bitcoin abbia toccato dei massimi storici per poi insomma stabilirsi intorno ai 74 mila dollari, infatti abbiamo visto diciamo nelle ultime 24 ore una diciamo salita di Bitcoin del 7%, ma è stato diciamo un momento piuttosto diciamo interessante per tutto quanto il panorama diciamo delle criptovalute, e così anche diciamo anche quei progetti che erano collegati appunto alle elezioni americane come ad esempio Maga, anche se diciamo nelle ultime 24 ore hanno visto poi chiaramente una discesa del prezzo, anche se diciamo è stato un momento diciamo favorevole non solo per Maga, abbiamo visto anche per quanto riguarda Doge 15% nelle ultime 24 ore, quindi un po' diciamo il fulcro di queste elezioni se così possiamo dire è stato sicuramente Bitcoin che ha trainato un po' il mercato delle criptovalute, ma non è stato soltanto il mercato delle criptovalute a giovare delle elezioni di Trump, ma anche l'azionario in generale, e vediamo appunto come anche Doge con comunque quelle criptovalute che erano state accostate un po' diciamo a Trump, alle elezioni e quant'altro, hanno subito comunque dei rialzi, quindi un momento molto interessante e molto proficuo per chi ha saputo e per chi saprà insomma sfruttarlo. Andiamo a vedere a questo punto un altro diciamo breve grafico, insomma CryptoBubble, un altro strumento, un altro sito che ci permette insomma di andare a vedere un po' come hanno performato nell'ultimo giorno le criptovalute, quindi quali profitti, quali percentuali insomma hanno realizzato, e vediamo come Got ha fatto un 40% quasi, Uniswap quasi il 30%, c'è qualche altra valuta appunto collegata diciamo al mondo dell'MmCoin, Neiro, Ave anche il 22%, insomma vediamo come in questo ultimo giorno ci siano state, ci sono stati dei rialzi interessanti. Possiamo andare a vedere poi anche durante tutta quanta la settimana, che non è stata diciamo così, avendo un outlook generale così favorevole, ma sicuramente quelle che sono state le elezioni ci hanno portato insomma ad avere diciamo una visione totalmente totalmente differente. Arrivati a questo punto parliamo un attimo diciamo appunto di quella che è la vittoria di Trump. Prima di passare però alla vittoria di Trump volevo velocemente ricordarvi e anche e soprattutto ringraziare quello che è lo sponsor di questo video, vado a condividere lo schermo con l'offerta attuale, ed eccoci qua praticamente Bing X, è un evento praticamente esclusivo per i nuovi utenti, puoi appunto ottenere fino a 3950 dollari di bonus più 4500 di Arix. Diciamo questa promozione è disponibile per altri 24 giorni, quindi quello che dovete fare è andare nel link che trovate qui sotto in descrizione, accedere ed iscrivervi, ci sono una serie di attività che potete andare a realizzare e ognuna di questa di queste attività vi permettono di guadagnare appunto criptovalute come ad esempio verifica che voi si puoi appunto completare la verifica che voi si per ricevere un buono di 100 dollari oppure depositare insomma 20 dollari e ricevere appunto mille, diecimila hoppi buono token, ci sono diverse attività che potete fare, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione per approfittarne. In questo momento accedete, potete appunto iscrivervi, io sono già chiaramente iscritto e utilizzo Bing X e potete appunto ricevere dei soldi in modo gratuito. Arrivati a questo punto appunto come stavamo dicendo, volevo farvi poi vedere un po' di che cosa si tratta, cosa sta succedendo per quanto riguarda Trump, le criptovalute, passo un attimo diciamo direttamente allo schermo ed eccoci qua e vediamo appunto cosa ha promesso Trump diciamo rispetto a quelle che sono le criptovalute, no? Cioè rispetto perché è stato, diciamo perché si è schierato comunque pro, diciamo, le cripto Trump e diciamo qua vediamo i key point, ci riferisce insomma il sito della CNBC che Trump si è proprio brandizzato, si è fatto uomo pro cripto di tutta quanta insomma la sua campagna, è stato, insomma ne ha parlato spesso delle criptovalute, si sapeva che per chi è nel settore se avesse vinto Trump ci sarebbero state dei risvolti positivi, chiaramente non siamo qui a parlare di politica ma parliamo semplicemente di quello che è il settore cripto, chi è contro, chi è pro, chiaramente ci sono delle visioni differenti ma a noi quello che ci interessa è capire effettivamente anche diciamo la vittoria di Trump che riaccende un po' il dibattito su quello che è il futuro delle criptovalute negli Stati Uniti ma anche poi chiaramente a cascata con in Italia o comunque in Europa e in questo momento gli investitori si stanno interrogando su poi le politiche di Trump le politiche economiche possano influire su Bitcoin e nel settore cripto in generale quindi ci sono stati un po' di punti che sono stati toccati in questi mesi durante la sua campagna da parte di Trump sicuramente il fatto che Trump sia presidente degli Stati Uniti d'America è favorevole rispetto al discorso criptovalute sicuramente anche parlando un po' di proposte fiscali, cosa che in Italia sta spopolando c'è chi dice che si paga il 26, c'è chi dice che si paga il 12, il 13, il 42, comunque c'è molta confusione in generale diciamo che Trump chiaramente non si è espresso per quanto riguarda le tasse nel mercato italiano ma comunque ha proposto una riduzione delle tasse fino al 42% per quanto riguarda le imprese e questo può sicuramente insomma stimolare l'adozione delle cripto come riserva di valore o di investimento e chiaramente anche i tagli fiscali possono attrarre investitori istituzionali questo verso le criptovalute, verso Bitcoin nello specifico e può portare insomma una maggiore liquidità e anche potenzialmente un aumento dei prezzi abbiamo visto che praticamente Trump ha partecipato a degli eventi cripto infatti qua vediamo come Trump sia stato orange pillato che sarebbe un termine tecnico per definire sia stato bitcoinizzato o comunque lo abbiano istruito rispetto alle criptovalute a Porto Rico e in più diciamo che qua leggiamo come per l'appunto Trump si è espresso in merito a Gary Gensler che praticamente diciamo è sempre stato contro le criptovalute e lui dice che prima o poi lo farà fuori e chissà se questo sarà uno dei momenti giusti per poterlo fare chiaramente quindi diciamo questi sono un po' i punti salienti che abbiamo visto anche come diciamo in questo momento Bitcoin abbia raggiunto dei nuovi record e ha segnato comunque generalmente una reazione propositiva, positiva del mercato e le politiche economiche comunque pro business potrebbero incrementare quella che è la fiducia degli investitori nelle cripto considerate comunque un rifugio contro l'inflazione e l'instabilità del sistema tradizionale ora arrivati a questo punto io direi che abbiamo visto un po' di cose interessanti e volevo giusto fare un passaggio per quanto riguarda l'indice di cui abbiamo parlato spesso praticamente Fair and Grid Index eccoci qua che praticamente misura questo indice diciamo un'analisi multifattoriale del mercato del sentimento che c'è nel mercato cripto in questo momento ci stiamo muovendo per l'appunto in questo momento verso l'avidità e quindi c'è un sentimento positivo nei mercati addirittura un indice che segna il 70% l'ultimo mese è stato neutrale ma in questo momento grazie anche un po' a quelle che sono le politiche per l'appunto diciamo che c'è un sentimento generale positivo e quindi questo è un dato interessante abbiamo visto e abbiamo parlato un po' appunto di quella che è stata l'elezione di Trump e voglio fare anche un ultimo passaggio ringraziando un altro sponsor del video di oggi e sto parlando per l'appunto di NordVPN ed è sempre bene insomma quando si quando si naviga e si utilizza quello che è il mondo delle criptovalute utilizzare una VPN per navigare in modo sicuro in questo momento è possibile appunto scaricare una VPN, una NordVPN c'è uno sconto del Black Friday del 74% il link lo trovate sempre in descrizione di questo video più addirittura tre mesi extra quindi praticamente tre euro al mese e tra nove ore scade l'offerta quindi potete approfittare dell'offerta andando direttamente qui sotto in descrizione ed è importante praticamente utilizzare una VPN per diverse questioni sia una questione di privacy sia una questione soprattutto quando si viaggia è molto importante quando ci si collega appunto a dei wifi pubblici e ci sono tutta una serie di motivazioni per le quali è meglio proteggersi e utilizzare una VPN ma magari se volete approfondire fatemi sapere qui sotto nei commenti andiamo a dedicare un video direttamente a tutte le VPN anche perché ho visto che in molti state insomma utilizzando e scaricando NordVPN ma a altre tante persone non è molto chiaro il motivo per il quale si vada a utilizzare quindi noi siamo arrivati praticamente in coda di questo video chiaramente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate cosa vi aspettate anche voi insomma da queste lezioni da parte nostra insomma anche con Crypto Power Academy abbiamo parlato spesso insomma di quello che sarebbe successo a novembre abbiamo avuto alcune soffiate ne abbiamo parlato in modo pubblico soprattutto nelle altre dirette che avevamo poi fatto precedentemente e guarda caso le nostre profezie si sono sempre andate a realizzare diciamo che per questo video è tutto sono sicuro che da qui a breve succederà qualcosa di grosso di ancora più grosso chi ha capito questo in questo momento insomma ne sta approfittando chiaramente in modo piuttosto piuttosto genuino anche no piuttosto interessante e chi è dentro da un po' appunto si sta strofinando per bene le mani anche perché vediamo Bitcoin insomma sfondare quelli che sono gli 80 mila dollari quindi che cosa ci aspetta? lo vedremo nei prossimi video nel frattempo diciamo potete andare a cercare quelle che sono potete andare a trovare quelle che sono le promozioni qui sotto in descrizione di questo video noi ci vediamo per il prossimo video e come al solito da Antonio è tutto to the moon e come al solito da un po'